Sia il MIUR che l'OMS parlano sempre più dell'inserimento all'interno del contesto didattico educativo delle life skills, ovvero di competenze relazionali che permettono all'individuo di avere una maggiore consapevolezza di sé e un miglior rapporto, una migliore interazione con gli altri. Cosa sono le life skills? Sono un insieme di competenze di riconoscimento emotivo, di competenze relazionali, di assertività, di pianificazione del lavoro e che consentono all'individuo di avere quella marcia in più rispetto alla sola conoscenza nozionistica. Vedremo quali sono le life skills, perché sono importanti all'interno del contesto quotidiano dell'individuo e soprattutto come è possibile svilupparle all'interno di un contesto didattico come quello scolastico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.